Ersilia Asciambra, presidente dell'associazione Progetto Luna, l'associazione di volontariato per l'informazione e prevenzione oncologica. Insieme all'ASP di Caltanissetta e all'Ordine dei Medici, organizzano insieme per vincere quarta edizione. Lo spettacolo si terrà al Teatro Margherita di Caltanissetta l'1 dicembre alle 19.30. La parrucca delle bambole, perché questo titolo? Questo introduce un po' la finalità dello spettacolo della quarta edizione. Noi abbiamo fatto un ingresso gratuito con posti assegnati perché c'è un'inflazione di richiesta di fondi, perché le associazioni lavorano per questo. Quindi abbiamo voluto ospitare le persone per dire che di cancro si vince, molte donne vivono, ma molte donne vivono una sofferenza, che è quello di ritrovare la propria immagine e a volte sono impossibilitate all'acquisto di una parrucca. Noi daremo all'ingresso una busta in cui chiederemo un contributo per l'acquisto di queste parrucche per persone particolari, perché deve essere non un fattore estetico, come diceva Michele Albano, ma deve essere anche un ritrovare se stesso, un essere bello stesso, una parrucca che verrà donata e sarà loro per sempre, a ricordo di quello che hanno vissuto e superato. La parrucca delle bambole, monologo scritto e ideato da Michele Albano. Prima in conferenza stampa ha detto una cosa molto bella, le donne anche se stanno male devono sentirsi a proprio agio con una parrucca. Sì, a volte la malattia, come in questi casi la patologia legata ai tumori al seno, fa diventare un po' le donne oggetti di ricerca o di applicazione scientifica. Questa spersonalizzazione resa necessaria dai vari interventi crea dei veri e propri drammi psicologici nelle nostre donne o in chi sta accanto. Allora la parrucca a quel punto non diventa soltanto un oggetto estetico di completamento, di abbellimento, ma diventa parte integrante per permettere alle donne di ritrovare se stesse in un momento diverso della vita, contrastando quell'idea dilagante, dirompente, che è essere diventate qualcos'altro. Per cui la parrucca delle bambole sottolinea l'azione preventiva e benefica attraverso il ricavato della serata, si compreranno queste parrucche, si aiuteranno le donne, sottolinea l'importanza di un'assistenza oltre che sanitaria e anche psicologica. Sono aumentate le donne malate di cancro qui a Caltanissetta in provincia? Sono aumentate così come è aumentato il numero a livello nazionale, ma non è un aumento reale, che è solo legato al fatto che, grazie a Dio, è diventata molto più incisiva la campagna di prevenzione. Quindi è una diagnosi che viene fatta, che un tempo non veniva fatta. Questo, se da un lato può sembrare un dato brutto l'aumento, dall'altro invece dobbiamo coglielo come una parte positiva di quello che è il percorso qualitativo di una ASP, nel senso che dobbiamo considerare che più precoce è la diagnosi, quindi più larga sia la prevenzione, più possibilità di guarigione abbiamo per le pazienti che purtroppo incappano in quello che è un tumore. Il tumore si guarisce, si guarisce, si vive bene, la qualità della vita è normale e non ci sono interventi che una volta erano interventi deturpanti. L'appello è invece a sottoporsi sempre più all'esame, quindi tutte le manifestazioni, tutti i momenti che promuovono l'invito allo screening vanno utilizzati e vanno presi veramente come oro colato. Tutte le donne dai 50 ai 69 anni devono sottoporsi biennalmente, quindi ogni due anni, a una mammografia perché si possa evidenziare se c'è qualcosa che non funziona. Se c'è qualcosa che non funziona è importante evidenziarlo subito perché, ripeto, si guarisce il pensare, non mi sottopongo all'esame perché mi spamento e sciocco perché ciò che c'è, c'è. Saperlo e darti la possibilità di vivere bene, di avere un'ottima qualità di vita e di tranquillamente poter portare a termine tutto ciò che più ti piace.